Buonasera e benvenuti. Siamo qui perché è arrivata la nuova GT-R Model Year 2017, un'auto attesa con ansia dagli appassionati di tutto il mondo. Caratterizzata da performance ancora più estreme, la nuova GT-R fa segnare un incredibile affinamento in termini di potenza, aerodinamica, design esterno e qualità degli interni. Il motore V6 Twin Turbo da 3.8 passa da 550 a 570 cavalli con una mostrusa coppia di ben 637 Nm. All'esterno la nuova GT-R si fa notare per la nuova griglia anteriore, le nuove prese d'aria sul paraulti anteriore e sul cofano, lo scarico a quattro terminali rivisto e dotato di un effetto acustico ancora più profondo. Anche l'aerodinamica è tutta nuova. Nuovo cofano, profili laterali ancora più cattivi e nuovi cerchi da 20 pollici in alluminio forgiato completano un design davvero esaltante. Gli interni, ora, prevedono l'ampio utilizzo di materiali di pregio. I comandi del cambio sono stati integrati nel volante, il cruscotto ed il quadro strumenti sono stati rivestiti in penne. La console centrale, ora tutta in fibra di carbonio, è arricchita da un display touch da 8 pollici caratterizzato da una nuova grafica. Per quanto riguarda le versioni, oltre alle già note Nismo, Track e Black, si aggiungono le entry-level GT-R e la Prestige, caratterizzata da interni ulteriormente impreziositi. Hiroshi Itamura, C-Products Specialist di GT-R, ha dichiarato, siamo orgogliosi di presentarvi la migliore GT-R di sempre e noi, con altrettanto orgoglio, questa sera ve la presentiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.